Il rientro in aula in sicurezza è la priorità in questo momento. Diversi sindaci in questi giorni hanno disposto indagini epidemiologiche sulla popolazione che ruota intorno al mondo della scuola. Sono stati fatti test su base volontaria a Caggiano, Sansa e Sassano e hanno tutti dato esito negativo. L'adesione, come sempre, è stata altissima, dicono da Caggiano, ricordando che questo screening è stato possibile grazie alla donazione effettuata nei giorni scorsi dall'Associazione Caggianesi d'America. 209 i test rapidi antigenici effettuati a Sansa, fa sapere il sindaco esposito, che parla di una buona notizia, la negatività di tutti, che mette tranquillità nella comunità e soprattutto nelle famiglie che da oggi possono mandare a scuola i nostri ragazzi. È partita a Sassano la campagna Safe School Project, organizzata dall'amministrazione comunale, che coinvolge gli alunni e il personale docente, non di tutte le scuole locali. A sottoporsi al test ieri la popolazione scolastica delle scuole medie, i cui ragazzi tornano così in classe in sicurezza. In questi giorni poi gli altri screening sulla scuola dell'infanzia e la primaria. Dopo gli esiti negativi e rassicuranti dei tamponi, riprendono quindi regolarmente e in sicurezza le attività didattiche in presenza. Le lezioni si fermano invece oggi per due classi a sala Consilina. Si tratta di una delle medie e una delle elementari. In entrambi i casi è stato trovato positivo un genitore e le classi interessate tornano alla didattica a distanza. Ora saranno fatti i test prima sui due ragazzini e poi, solo in caso di positività, anche ai loro compagni di classe.